buongiorno a tutti voi e bentornati in questo video vi facciamo vedere la grandine che è scesa oggi alcuni pezzi di grandine oggi 2 agosto 2019 in provincia di lecco intorno alle 13.30 sono pezzi molto grandi non ha grandilato molto ma il risultato è il seguente pezzi molto grandi di grandine abbiamo voluto documentare la raccolta di questi pezzi di grandine molto di dimensione elevata con fogge molto strane specialmente quali piccoli grazie per l'attenzione e buona giornata se possibile grazie